Cari italiani, ci sono delle novità dall'Ucraina. Un mio conoscente diretto ucraino, che vive a Kiev, mi ha riferito che il popolo ucraino ha cominciato a ribellarsi contro il governo di Zelensky. Ci sono vari motivi ma per il momento ve ne svelo solo due. Sono iniziate delle indagini su Zelensky. Le indagini sono iniziate per capire realmente come sono stati impiegati i soldi donati al governo ucraino. Fonti certe riferiscono che Zelensky ha investito, una buona parte dei soldi, nell'industria cinematografica, come se fosse una grande urgenza per il popolo. Oltre a questo, il popolo ucraino si sta ribellando perché i giovani soldati ucraini, che vengono ammazzati nei territori di guerra, vengono abbandonati lì. In poche parole, non restituiscono le salme ai propri familiari. Il motivo è per non risarcire economicamente i familiari così come previsto in caso di guerra. Questo non è niente in base a tutto quello che mi hanno riferito. In un prossimo video vi parlerò di altro. Il popolo ucraino è venuto a sapere di tutte le magagne del loro leader e per questo hanno iniziato una grande ribellione che nessuno dice in Europa. Meditate gente. Meditate. Se sei d'accordo in quello che ho detto, lascia gentilmente un mi piace a questo video. Inoltre, se ancora non lo hai fatto, per favore, iscriviti a questo canale ed attiva la campanella delle notifiche. È l'unico modo per sapere le verità che ci vengono nascoste. La verità fa male, ma qualcuno deve pur raccontarla. Al prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.